Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese e Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 per traffico, code verso nord tra Firenze Sud e Firenze Scandicce, tra Firenze Improneta e BV1-11. In A11 resta coda per traffico verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In A12 per lavori 4 km di coda tra Sarzana e Massa in direzione Livorno. In Sipili restano rallentamenti per viabilità esterna che non riceve verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci. Prima di salutarci per la cantieristica, da quest'oggi sulla Stadale 1 Aurelia per lavori di ripristino della pavimentazione è temporaneamente chiuso lo svincolo la California Cecina Sud tra Cecina e Bibona in ingresso e in uscita per chi viaggia verso Grosseto. Il completamento degli interventi è previsto entro giovedì 30 marzo. Aversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!